Ciao a tutti! Oggi prepareremo il frappè alle fragole e banane con yogurt e biscotti. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa. Gli ingredienti sono latte, banana tagliata a pezzetti, fragole tagliate a pezzetti, yogurt alle fragole, biscotti a pezzetti. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i biscotti e li facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere le fragole, la banana, lo yogurt ed il latte. ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 10. Versare nei bicchieri e servire. Frappè alle fragole e banane con yogurt e biscotti. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ciao!